Il progetto dei tavoli NEL nasce dall'idea di disegnare una struttura leggera e il più possibile trasparente, su cui appoggiare dei piani di diverse forme e di diversi materiali. Questa voglia di leggerezza e di trasparenza si è tradotta in una composizione di quattro lame metalliche sottilissime, quasi a forma di boomerang, che sfalsandosi nella loro composizione come se stessero rincorrendosi, formano una base centrale con una certa connotazione formale che può essere usata sia singolarmente per fare tavoli rotondi che in coppia per fare tavoli rettangolari o ovali. La matericità dei topi in legno, in marmo o in vetro dialoga per contrasto con la leggerezza della struttura e con la trasparenza della struttura metallica. Il sistema prevede anche una versione di tavolino jolly basso da accostare ai divani sia tondo che quadrato. È una composizione molto ricercata di oggetti super semplici.